vi rendete conto ragazzi e ovviamente giuseppe ti rendi conto perché parlo con te sto parlando con te si proprio con te quella persona che sta davanti a quello schermo si ti sto indicando col dito si proprio con te giuseppe sta parlando ti rendi conto quanto sei fortunato di essere io tu adesso sei vivo un domani sarà morto non ci sarà più non ci sarà proprio il tuo corpo il tuo volto non ci sarà più la tua voce proprio non ci sarai proprio più pensate quanto sei unico questa fisionomia questo corpo quegli occhi quel naso quel viso quelle orecchie questo timbro di voce non esisteranno mai più ecco perché noi siamo tutti unici e meravigliosi perché dopo questa vita non esisterà più uno come giuseppe galli uno come me uno come te con quel corpo con quel viso con quella pelle è proprio un paradosso ragazzi cioè io adesso sono vivo sono consapevole sono vivo con questo viso con questo volto con questo corpo questo timbro di voce un domani non ci sarà più per l'eternità sempre con questo corpo con questo contenitore questo viso con questo mio carattere questo mio timbro di voce queste mie orecchie non ci sarò mai più in questa terra mi potrò mi potrei incarnare in altri corpi in altri contenitori potrei diventare un fiore un albero un cane ma tu tu con quel viso con quel corpo con quegli atteggiamenti con quel carattere lì non ci sarai mai più tu non esisterai mai più in questa terra tu sto dicendo proprio a te si proprio a te con quelle sembianze tu non esisterai mai più tu non esisterai mai più quindi porca puttana godite questa vita nella massima totalità e in piena consapevolezza bruciala perché oggi si ricordano di te domani neanche più le mosche si ricorderanno di te sono vivo vedete questa carne un domani questa carne questo viso questo corpo starà dentro una tomba dentro a quattro muta mura mangiato dai vermi ragazzi si proprio così questa è la realtà mangiato dai vermi quindi amate i vostri figli stategli vicino dico a te Giuseppe ditegli quanto gli volete bene a tutti voi ragazzi che avete dei figli amatele coccolatele ditele ogni giorno vi voglio bene vi amo ai vostri mariti dite vi amo vi voglio bene vi adoro fatevi le coccole alle vostre mogli alle vostre donne amatele amatele ditele ogni giorno vi amo vi voglio bene anche le persone che si lasciano e si mettono con altri uomini o altre donne perché hanno incontrato il vero amore amatele nella massima totalità ogni giorno ditegli quanto le amate quanto le volete bene ditelo sempre ditelo sempre perché non annoia mai non si farà mai perché il nostro tempo il vostro tempo è limitato ai vostri figli la stessa cosa alle vostre mamme ai vostri papà che sono grandi che avranno 60 anni 70 anni 80 anni ogni giorno diteli vi amo vi voglio bene vi amo vi voglio bene mamma ti amo ti voglio bene papà ti amo ti voglio bene ditelo ogni giorno perché anche loro saranno mangiati dei vermi come noi non ci saremo mai più in questo mondo quindi ragazzi svegliamoci e svegliatemi un bacione ricordati Giuseppe che sei vivo grazie a tutti grazie a tutti